Semaforo verde alla voglia di riscatto. Nella città dei Due Galli prende il via l'iniziativa a sostegno del commercio. Si intitola I negozi sono l'anima di Gallarate, vieni da noi, la campagna pubblicitaria promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con il distretto urbano del commercio, di cui fanno parte Confcommercio Gallarate Malpensa e Naga e che coinvolge tanti negozianti della città. Un'ottantina hanno deciso di metterci la faccia nel vero senso della parola. Le loro foto riempiono le due locandine preparate per l'occasione. Come vedete dietro allo slogan I negozi sono l'anima di Gallarate ci sono i volti di tutti i commercianti di Gallarate, non di tutti ma di tanti. Quindi abbiamo capito in questi mesi di lockdown, di chiusura, quanto davvero i negozi, le persone facciano la viva città di una città. L'emergenza sanitaria causata dal coronavirus ha fortemente colpito il settore del commercio. La riapertura dei negozi sta avvenendo in questi giorni tra mille dubbi e paure. La campagna pubblicitaria è dunque volta da un lato a stimolare i cittadini di Gallarate e dei comuni limitrofi a tornare a fare shopping in città e dall'altro a promuovere i tanti vantaggi e le proposte che sono state pensate e riservate per la clientela. Abbiamo volentieri supportato il distretto in questa operazione perché davvero riporta al centro l'attività del negozio di vicinato, intesa non come un qualche cosa che si sta estinguendo e va preservato a prescindere perché è un patrimonio da tutelare ma perché è un tessuto vivo e il fatto di essere riusciti a generare una campagna che coinvolga così tanti negozi rispettando le singole peculiarità e le singole diversità garantendo un vantaggio economico per il cliente credo che sia la prova provata del fatto che il commercio di vicinato è attivo se vogliamo se vogliamo vederlo insomma ecco non ha non è secondo sicuramente alla grande distribuzione. Questa campagna pubblicitaria che partirà ai primi di giugno intende parlare a tutti dai giovani agli anziani, dalle famiglie a chi visita la città per motivi di lavoro. Sono infatti previsti sia gli strumenti tradizionali quali affissioni e volantini sia quelli più tecnologici con la pagina facebook del distretto urbano del commercio di Gallarate e con il sito www.ducchegallarate.it È una campagna dal forte impatto empatico ed emozionale che sarà realizzata in due differenti modalità. Una prima quella del web dell'online cui oggi siamo stati tutti abituati essendo chiusi in casa con una diffusione che sarà a partire dal primo di giugno per tutto il mese di giugno. È una seconda parte con una formula molto più tradizionale che è quella del cartaccio, delle affissioni che si riproporrà fino ad avere all'interno della propria cassetta delle lettere il formato A5, il volantino con l'opportunità di ritrovare alla fine le immagini di ogni singolo commerciante all'interno del proprio punto vendita con lo slogan anch'io sono l'anima di Gallarate.